Tenere pulita la città, insegnare a piccoli e grandi le regole basilari per un vivere civile. Serve anche a questo Puliamo il Mondo, l'iniziativa di Lega Ambiente che ha coinvolto i cittadini del capologo sociaro. Qui ai Cavoni con i volontari abbiamo ripulito la zona di Viale Parigi e dintorni da tutte quelle che sono cose abbandonate senza attenzione, dal piccolo rifiuto anche a qualcosa di ingombrante. Ci siamo collegati in questa giornata con la collaborazione del Comune alla raccolta degli ingombranti e dei RAE, cioè abbiamo raccolto anche vecchi frigoriferi, abbiamo raccolto materiale elettronico che è altamente inquinante e non va mescolato negli altri rifiuti e non va abbandonato assolutamente dove capita. L'iniziativa ha avuto anche una parentesi didattica. Abbiamo tenuto una piccola lezione nella scuola elementare parlando ai ragazzini e ai bambini di raccolta differenziata. Vogliamo e desideriamo attraverso queste iniziative fare educazione senza tanta pretesa, ma con la collaborazione delle insegnanti. Noi abbiamo sicuramente fatto crescere la mentalità di questi bambini e adeguarla ai tempi sempre più necessari. Noi non vogliamo che sia necessario fare la raccolta differenziata e avere sempre una maggiore adesione della gente convinta, cioè separare i rifiuti. In una zona del capologo Ciociaro sono stati trovati rifiuti di ogni tipo, copertoni, ferri ed assi da stiro, stampanti. Certo, sarebbe più facile avere a disposizione un'isola ecologica a Frosinone, ovvero uno spazio in cui tutti i giorni è possibile conferire rifiuti ingombranti. In attesa di ciò, Legambiente organizza una volta al mese l'iniziativa Puliamo il Mondo, che si unisce a quella ad uguale cadenza mensile del comune di Frosinone Liberati dai tuoi ingombranti. Prossimo appuntamento sabato 26 ottobre.